Il castello di Oensalzburg, situato nella pittoresca città di Salisburgo in Austria, è un punto di riferimento iconico che attrae turisti da tutto il mondo. Questa magnifica fortezza in cima alla collina offre una vista mozzafiato sulla città e sul paesaggio circostante. Il castello di Oensalzburg, costruito nell'undicesimo secolo, è uno dei più grandi castelli medievali completamente conservati d'Europa. La sua imponente architettura e la sua ricca storia lo rendono una meta imperdibile per i viaggiatori di tutto il mondo. La posizione strategica del castello ha svolto un ruolo fondamentale nella difesa di Salisburgo nel corso della sua storia. Per chi è interessato alle viste panoramiche dello splendido paesaggio di Salisburgo, una visita al castello di Oensalzburg è altamente raccomandata. La posizione strategica del castello consente ai visitatori di godere di una vista mozzafiato sulla città sottostante e di scorgere persino le montagne vicine. Il viaggio al castello di Oensalzburg è di per sé un'esperienza indimenticabile. I visitatori possono fare una piacevole passeggiata fino al castello o optare per un viaggio in funivia, che offre viste panoramiche di Salisburgo lungo il percorso. A chi ha in programma una visita a Salisburgo si raccomanda di includere il castello di Oensalzburg nel proprio itinerario. La sua posizione pittoresca e il suo significato storico lo rendono una destinazione indimenticabile per i viaggiatori in cerca di ricchezza culturale e bellezza naturale.